Devi arredare casa? Da FilmUp Arredamenti un'offerta impareggiabile, arredamento completo composto da cucina con elettrodomestici classe A, tavolo allungabile più 6 sedie, salotto in tessuto Mozart con contenitore apribile, parete attrezzata da 270 cm, camera con letto imbottito e armadio treante, tutto a soli 7.990 euro. E se non ti basta, in omaggio un televisore 42 pollici o una rete ad oghe con materasso memory solo per questo periodo e solo da FilmUp Arredamenti a Padula Scalo in via Fiumicello.